Sì, ma dire no e no... ha fatto un po' di più di 5 anni e ha fatto un po' di più di più e ha fatto un po' di più di più e quando si sembrava di più e si è expectativa di un applauso quindi potremmo un po' di più applausi 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 in centro abbiamo una nuova e una nuova un po' di più un po' di più un po' di più una nuova un po' di più è molto che le gente non ci vedo la nostra segra non ci vedo la nostra segra è molto bene 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 per quanto riguarda un anno, e è stato con il suo maho, Dau. Non tutti gli elementi si tratta di prendere il più smartesto, che si tratta di prendere. Si tratta di 4-5 mesi per entrare, come gli elementi di prendere, e si tratta di prendere per continuare. E non si tratta di prendere. E non si tratta di prendere. Pagliare con il suo maio di prendere e si tratta di prendere. Entra che sono stati raiondati a fare spazio, sono stati raiondati a spazio, non li fai alcune le mani di prendere. Si tratta di prendere alcune le mani di prendere. Sono stati raiondati a fiare di prendere. Guardare la lucia delle mani, come? Guardare le mani di prendere... E' una persona 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 Ha le capacità intellettive di un bambino, di un anno. Grazie a tutti.